Bene, bene, bene. Ah, buongiorno, Frank. Buongiorno. Cosa vorrebbe significare che mi prendi in giro? Vuoi dire che la mia famiglia è povera? Gesù, Frank, non credo che ti serva un coltello. Insomma, lo sai, proprio puoi farmi male anche senza. Puoi insegnarmi come si fa il bullismo. Pessima idea, Morty. E ora ti taglio tutto. Perché la mia famiglia è ricca. Eccoti qua, Morty. Ascolta, mi bene. Devo andare subito in un'altra dimensione e mi serve un paio di mani in più. Oh, Gesù, Rick, cosa hai fatto, Frank? Mi sembra ovvio, Morty. L'ho congelato. Ascolta, mi serve il tuo aiuto, Morty. Insomma, noi dobbiamo andarcene da qui e metterci a lavoro. È importante. Andiamo, Morty. Non lo so, Rick. Non posso saltare scuola ancora. Hai idea di quanto sia alta la posta qui fuori, Morty? Che pensi che possa fare tutto da solo? Andiamo! Oh, cavolo, ok. Forse posso saltare storia. Ma il povero Frank, non puoi scongelarlo? Lo farò a ritorno, Morty. Stara bene. Forza. Oh, mio Dio. Sto per passare vicino a Frank Palicki. Questa è la storia che racconteremo ai nostri figli. Ciao, Frank. Ha qui? Aaaaaaaaaah! ??? Cosa.